Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore. Da questo momento potete parlare soltanto quando vi sarà richiesto. E la prima e l'ultima parola che dovrà uscire dalle vostre fogne sarà signore. Tutto chiaro, luridissimi vermi? Sì, sì, signore! Ma che cazzo non vi sento? Rispondete come se ne avesse davvero! Sì, sì, signore! Se voi signorine finirete questo corso e se sopravviverete all'addestramento, sarete un'arma, sarete dispensatori di morte, pregherete per combattere. Ma fino a quel giorno siete uno sputo, la più bassa forma di vita che ci sia nel globo. Non siete neanche fattuti esseri umani. Sarete solo pezzi in formi di materia organica, anfibia, comunemente detta marda. Dato che sono un duro non mi aspetto di piacervi. Ma più mi odierete, più imparerete. Io sono un duro, però sono giusto. Qui non si fanno distinzioni razziali. Qui si rispetta gentaglie come negri, ebrei, italiani o messicani. Qui vige l'eguaglianza, non conta un cazzo a nessuno. I miei ordini sono di scremare tutti quelli che non hanno le palle necessarie per servire nel mio beniamato corpo. Capito bene, luridissimi vermi? Signor, sì, signore! Ma che cazzo non vi ho sentito? Signor, sì, signore!